Grazie a tutti. Come primo collega abbiamo Borruso che ci parla di analisi GIS del Central Business District di Sassari, visualizzazioni cartografiche. Un filo rouge particolare di questa sessione parallela è che vediamo delle applicazioni non usuali del GIS. Ci sono applicazioni nel campo della riorganizzazione pubblica e amministrazione a supporto di indagini penali e così via. Insieme con altre più tradizionali, nel senso che usano il GIS in modo quantitativo a supporto della pianificazione del territorio, questi nuovi punti di vista ritengo molto interessanti come spunto di riflessione e spero che ci sarà un po' di discussione. Prego Borruso. Bene, io ringrazio il moderatore, il professore Annucci, ringrazio anche i colleghi che tra l'altro hanno accettato questo cambio di anticipazione del mio intervento. L'intervento che presenterò oggi è intitolato l'analisi GIS del Central Business District di Sassari, visualizzazioni cartografiche. Io sono Giuseppe Borruso e l'intervento è stato realizzato assieme alla dottoressa Silvia Battino dell'Università e degli Studi di Sassari, a cui va per il merito della parte più consistente di questo studio e del lavoro che viene presentato. Appunto per motivi organizzativi viene presentato da me, ma appunto ci tenevo a dare soprattutto a lei il peso di aver sviluppato la maggior parte del lavoro, essendo appunto concentrato sulla città di Sassari, che è la città dove la dottoressa Battino studia e lavora. Il lavoro che è stato presentato appunto, che è stato sviluppato, coniuga quindi l'utilizzo di sistemi informativi geografici e strumenti di analisi spaziale, di analisi statistica spaziale per l'analisi della città, soprattutto per quanto riguarda le funzioni che la città esercita. In letteratura, nella letteratura legata allo studio delle città, c'è stata un'attenzione in passato sulla forma della città e sul tipo di attività che caratterizzano una città, soprattutto quelle attività, quelle funzioni che vengono sviluppate nell'ambito urbano e che in qualche modo le danno una caratteristica funzionale, quindi che la caratterizzano come città per il tipo di funzioni che questa esercita, soprattutto in termini appunto di luoghi di concentrazione di certe attività. E che quindi poi servono anche a spiegare per quale motivo le città diventano nodi di attrazione, perché appunto si verificano flussi di persone, di comunicazioni, di servizi, eccetera. In particolar modo, soprattutto, è passato, ma è un filone di studi che continua, quello dei luoghi centrali delle città, quindi del cosiddetto Central Business District, concetto che nasce soprattutto nell'ambito anglosassone, ma che poi viene comunque sviluppato e negli altri contesti. Sottolineando un concetto in particolare, cioè quello che le aree centrali della città, o certe aree centrali della città, sono quelle in cui alcune attività più importanti, quelle che più caratterizzano una città, vengono a concentrarsi. Diversi studi nel corso degli anni, nel corso dei decenni, hanno sviluppato, si sono concentrati soprattutto su alcuni elementi, che vanno dalla morfologia urbana all'edilizio urbano, quindi diversi criteri, quindi quello per esempio della concentrazione di uffici ed edifici pubblici, quindi una densità di attività legate al terziario, o quella di punti vendita, quindi commercio al dettaglio, soprattutto un certo tipo di commercio al dettaglio che caratterizzava i centri. Il commercio che poi appunto, essendosi spostato in buona parte anche fuori città, nel corso degli anni con la grande distribuzione, ha un po' perso quindi questa caratteristica soprattutto di centralità. Il centro degli affari, quindi il centro della città, come il centro dove i valori dei terreni sono più elevati, perché più alta è la competizione per l'uso del suolo, quindi diverse attività umane che competono tra loro per i luoghi centrali, quindi quelli nevralgici. Altri criteri legati per esempio alla densità di popolazione, piuttosto che un'alta concentrazione di traffico. Quindi i diversi criteri, i diversi criteri che poi hanno portato quindi a prendere in esame punti di vista diversi, appunto per la definizione di aree centrali della città, per evidenziare dove sono localizzate e quali caratteristiche hanno. In questo studio, seguendo alcuni recenti orientamenti di letteratura, abbiamo cercato di coniugare quindi alcune attività, quindi una serie di attività definibili come centrali, quindi attività che possono trovare una loro distribuzione sul territorio, in particolare in ambito urbano, quindi partire da quella che è una classificazione di queste attività, osservare la loro distribuzione sul territorio, sul territorio urbano, e vedere appunto tramite gli strumenti GIS, quindi quelli più tradizionali di visualizzazione, nonché tecniche più avanzate di analisi spaziale, vedere appunto come questa distribuzione si comporta e si caratterizza. Siamo partiti da diverse banche dati, qui incrociando sostanzialmente dati forniti, quindi la cartografia ufficiale fornita dal comune di Sassari, quindi per esempio i confini amministrativi, le pretensioni interne, quindi i quartieri e lo stradario, soprattutto i numeri civici, numeri civici che sono stati importanti per collegare, quindi per georeferenziare le attività. Abbiamo evidenziato soprattutto tramite il servizio di pagine gialle, alcune categorie che sono quelle che vedete elencate nella vostra destra e che sono delle attività che abbiamo identificato come attività centrali, per esempio quelle legate all'abbigliamento, all'arte e alla cultura, banche e assicurazioni, commercio, professioni, servizi all'impresa, immobiliari, tempo libero, uffici pubblici. Ovviamente sono delle attività che non troviamo esclusivamente nelle città, ma volevamo vedere se e come queste hanno una distribuzione soprattutto concentrata nelle città e che forma hanno queste. Queste categorie appunto sono poi esplose in sottocategorie che vediamo in questo lucido, non vado naturalmente a elencarle e commentarle tutte, vediamo comunque che c'è, e osservando alcuni numeri vediamo soprattutto alcune presenze più importanti e vediamo che sono molto spesso quelle legate o alle attività finanziarie, per esempio sportelli bancari e assicurativi, le professioni, quindi gli istituti professionali, per esempio studi di avvocati e di medici, piuttosto che appunto la parte legata alla ristorazione, piuttosto che al tempo libero. Siamo partiti quindi da una georeferenzazione di queste attività, quindi partendo dall'estrazione di dati dal servizio Pagine Gialle, quello che troviamo sul web, e la georeferenzazione sui numeri civici del comune di Sassari, una prima visualizzazione di partenza è quella di uno scatter plot, quindi di una osservazione puntuale della distribuzione di queste attività, vedendole nell'ambito del comune di Sassari, in particolar modo nella cosiddetta città compatta, quindi nell'area centrale più densa del comune. il comune di Sassari, l'anticipo brevemente, è molto esteso e ha una componente urbana, la cosiddetta città compatta, che è quella che vedete rappresentata con la sua divisione nei quartieri, e un cosiddetto agro molto esteso, che appunto qui non viene esaminato, anche perché comunque le attività che stiamo esaminando sono veramente poche. Quindi qui abbiamo una suddivisione dei quartieri interni, appunto abbiamo una trentina di quartieri interni nell'ambito di questa città compatta su cui si è focalizzata la nostra analisi. Abbiamo considerato diversi indicatori, di tipo diciamo appunto, uno semplice e puntuale come quello appena visto, indicatori legati a delle aree, quindi legati a delle suddivisioni amministrative, che come sappiamo sono delle suddivisioni areali, quindi in qualche modo disegnate dall'uomo, le arbitrarie, come vedremo dopo, degli indicatori anche legati alle singole strade, per cui appunto a segmenti, a elementi lineari. Un primo semplice indicatore è stato quello di considerare la percentuale di attività centrali nei quartieri della città compatte, in cui appunto dalla prima osservazione in cui possiamo già osservare, così intuire una certa concentrazione, vediamo quei tre, quattro quartieri, che sono appunto quelli indicati in blu, che sono quelli dove si ha una concentrazione più alta appunto di attività centrali, in particolar modo nel centro storico, il quartiere della piazza d'Italia e altri due quartieri, appunto, via Mendola, via l'Italia e via le Dante, che sono appunto indicati in questi punti. Un altro indicatore è stato quindi invece utilizzato attribuendo la distribuzione puntuale che abbiamo visto prima, quindi la distribuzione di attività per punti sui segmenti di strada. E qui appunto abbiamo cercato di visualizzare quindi in qualche modo le aste viarie che più di altre sono quelle su cui si affacciano sostanzialmente le attività, proprio perché sappiamo che soprattutto in certi contesti urbani, e qui vediamo appunto che soprattutto la parte non tanto il centro storico, in cui forse si coglie la trama abbastanza intricata della viabilità, ma nei quartieri di nuova evoluzione urbana abbiamo una struttura, una griglia abbastanza regolare e in queste strutture è facile avere una distribuzione lineare di attività, quindi che si concentrano su un percorso lineare. E infatti siamo in grado di visualizzare quelle che sono le principali vie, quindi soprattutto un paio di direttrici che sono quelle a più alta concentrazione di attività, quindi diciamo un indicatore che è stato inventato è quello delle quantità di attività ogni dieci metri di strada. e vediamo che c'è appunto un orientamento privilegiato in questo senso, quindi da nord-ovest e da sud-est con delle trasversali che offrono anche dei valori interessanti di concentrazione. Questi indicatori, questi primi due indicatori, sono stati confrontati in qualche modo con un tipo di stimatore, di analisi statistica spaziale, la kernel density estimation, che in qualche modo trasforma una distribuzione puntuale di punti in una superficie di probabilità. Per cui in qualche modo fa vedere una visualizzazione quasi a linee epsometriche, diciamo comunque a superfici di quella che è appunto la densità delle attività. Quindi vediamo che le aree più scure sono quelle che presentano la maggiore densità, quindi la maggiore concentrazione di attività. Interessante notare che questo tipo di funzione adotta un raggio di ricerca, quindi una specie di funzione circolare che quindi cerca di pesare attività puntuali, elementi puntuali che si trovano dentro una certa distanza dal punto di stima e la riferisce quindi a quell'area. Per cui appunto abbiamo che soglie più strette tendono a far vedere una distribuzione con più picchi, quindi più spigolosa, man mano che andiamo ad aumentare questa soglia vediamo che questa superficie diventa più smussata. Siamo stati in grado di visualizzare e soprattutto utilizzando quindi la soglia più ampia di 350 metri, il mio avvio immediatamente, tra le conclusioni sto terminando, riusciamo a visualizzare appunto, e qui vedete una sovrapposizione tra praticamente in grigio scuro, quindi in toni di grigi, vedete le aree in cui si concentra maggiormente questa presenza di attività economiche centrali, e una selezione di questi profili di densità che ci danno un'idea dell'orientamento. soprattutto quindi questo tipo di rappresentazione ha diciamo un vantaggio rispetto alle altre, rispetto alla prima che abbiamo visto, quella di in qualche modo aggregare la visualizzazione puntuale, per cui non vediamo soltanto i punti, ma anche come questi si concentrano, e ci dà anche un'idea dell'orientamento quindi di questo centro, di questa area, è maggiore centralità, quindi la maggiore presenza di queste attività centrali. In qualche modo quindi, diciamo che strumenti di questo tipo possono essere utili per quindi caratterizzare, per evidenziare, diciamo, aree a una caratterizzazione molto forte e di funzioni. In un caso non abbiamo visto come questa presenza e di attività si confronti con quelli che sono gli effettivi confini diciamo interni delle unità amministrativa e perché no, in un'ottica di ripensamento magari del disegno interno appunto di queste subunità amministrative, vedere una distribuzione magari continua o comunque di maggiore concentrazione potrebbe essere utile per ridisegnare magari i confini stessi di partizioni che invece in qualche modo risentono del cosiddetto disegno manuale arbitrario che traccia le linee di separazione tra un'unità amministrativa e l'altra. Io avrei terminato, io vi ringrazio dell'attenzione. Grazie per un'interessante relazione. Ci sono domande, è stata una relazione che ha presentato dei dati, dei dati quantitativi, si è pure espressi in forma grafica. Mi domando se qualcuno di voi ha desiderato approfondire qualche aspetto di questa analisi, di questo metodo d'analisi. Non mi sembra che ci sono domande, quindi possiamo. Grazie, Borruso. Chiamerei quindi africani Paselli che insieme ci parleranno del sistema informatico di gestione e pubblicazione degli strumenti di pianificazione urbanistica del comune di Bologna. Prego. Buon pomeriggio. Io mi chiamo Elisa Paselli e insieme alla collega Paola Africani oggi vi presentiamo un lavoro che è stato fatto dal sit del comune di Bologna insieme alla ditta Semenda SRL ditta di Modena. L'intervento ha per titolo il sistema informatico di gestione e pubblicazione degli strumenti di pianificazione urbanistica del comune di Bologna. Le fasi di questo progetto sono articolate in tre punti. Il primo punto che quindi andremo a vedere. Il primo punto riguarda l'analisi dei dati e la progettazione del geodatabase. Il secondo punto invece riguarda la creazione vera e propria del geodatabase ARGIS e il terzo punto riguarda invece la pubblicazione dei dati attraverso web del geodatabase e il relativo collegamento alle norme e ai documenti di piano. In particolare appunto per quanto riguarda la prima fase diciamo che la prima fase ha visto lo studio del piano urbanistico comunale che in regione Emilia Romagna è costituito da tre strumenti che sono il PSC piano strutturale comunale il POC piano operativo comunale e il RUE che è regolamento urbanistico edilizio. Il PSC è stato approvato nel 2008 mentre gli altri due strumenti sono stati approvati nel 2009. Per quanto riguarda gli elaborati grafici il piano si compone di 15 tavole con 250 voci di leggenda e quando abbiamo realizzato queste tavole ci siamo serviti di 130 shapefile quindi capite bene che non era un modello strutturato erano file in locale molto spesso ridondanti di cui non si sapeva se era la versione giusta o meno per questo è stato necessario costruire una vera e propria banca dati. Quindi diciamo cosa abbiamo fatto una volta definito il modello dati che era un geodatabase argis prima di tutto abbiamo dovuto fare uno studio di tutti i layer e quindi tutti i layer hanno dovuto avere gli abbiamo dato diciamo un codice comunale quindi a tutte le voci di leggenda delle tavole è stato attribuito un codice comunale e conseguentemente per il PSC visto che è già presente un modello dati della provincia di Bologna un modello dati della regione Emilia-Romagna è stato attribuito conseguentemente un codice provinciale quindi è stato ricondotto un codice provinciale e visto che tra la regione e la tra la provincia e la regione vi sono tabelle di conversione degli elementi in questo modo è possibile ricondurre i nostri dati attraverso il formato di interscambio regionale ricondurlo verso la regione per quanto riguarda invece il RUE e il POC gli altri due strumenti urbanistici visto che non esiste un modello dati provinciale e comunale quello che abbiamo fatto è stato nel possibile ricondurre ciò che era presente anche nel RUE e nel POC e che più o meno era presente anche nel PSC a una scala diversa è stato ricondotto al modello PSC e dove non era possibile sono stati creati altri livelli cartografici e altri dati questa slide è una slide che vi fa capire le relazioni tra gli shapefile in questo caso non sono tutti gli shapefile sono gli shape che erano presenti in più di una tavola quindi diciamo queste sono le relazioni tra gli strati cartografici che per esempio sono presenti nella tavola degli ambiti e sono presenti anche nella tavola delle situazioni in alcuni casi però questi dati dove vedete le linee tratteggiate vuol dire che erano presenti in una tavola ma portavano dei cambiamenti in un'altra tavola quindi bisognava tenerne conto ma non erano propriamente uguali e quindi questo vi fa capire un po' la complessità delle relazioni tra i dati e di questo abbiamo dovuto tener conto nel momento della costituzione della banca dati spaziale quindi il passo successivo è stato quello appunto della creazione del geodatabase si è passate da un modello shapefile quindi abbiamo detto 130 livelli cartografici a un modello geodatabase che invece si è costituito da 35 feature class e in questa piccola immagine viene rappresentata quella che è la banca dati che contiene le feature class all'interno di 4 feature dataset e quindi per semplificare il sistema le feature class non contengono tantissime informazioni ma contengono le informazioni su che cos'è l'oggetto rappresentato e lo strumento a cui si riferiscono quindi se lo strumento appartiene al PSC al RU e al POC e a che versione del PSC del RU e del POC sono tutte le altre informazioni che sono legabili alle feature class sono state messe in tabelle esterne alle feature dataset e tabelle esterne che sono di vario tipo sono tabelle che per esempio riportano il collegamento alla normativa tabelle che riportano il collegamento alla tipologia di strumento quindi se è il PSC quando è stato adottato quando è stato approvato che versione di strumento urbanistico è e poi contengono tabelle di decodifica del codice oppure collegamento a documenti PDF tavole e quant'altro e inoltre vi sono anche delle tabelle di sistema le relazioni possono essere ovviamente 1 a 1 a 1 a n inoltre nel nostro geodatabase vi sono anche funzioni per diciamo per avere un'integrità del dato spaziale e dell'integrità dei dati alfanumerici sono previste anche procedure regole topologiche e regole sui domini proprio tipiche del sistema RGIS in questa immagine è rappresentato per esempio la tavola dei vincoli delle infrastrutture suolo e servitù come era prima nel modello shapefile quindi vedete una decina di elementi venivano riportati con la varia complessità e oggi invece la tavola è costituita da tre livelli così come il vincolo la tutela la tavola delle tutele e stabilità dei versanti che nel modello shapefile veniva rappresentata con sei o sette layer cartografici oggi è costituita solo da due livelli quindi diciamo si è semplificato la procedura di pubblicazione delle tavole io consiglierei per dare spazio alla collega di concludere questa parte un ultimo zoom focus su quella che è l'architettura e in pratica abbiamo una versione base come gestito il geodatabase una versione base che contiene i dati consolidati una versione pubblicata che contiene i dati che vengono pubblicati e mostrati nelle varie applicazioni web una versione storica che storicizza le varie versioni base quindi dove saranno storicizzate le varie versioni PSC RU e POC dopodiché nel modello che è rappresentato vi sono altre versioni di manutenzione evoluzione evoluzione N che tengono conto delle varianti e delle modifiche alle tavole che devono essere fatte e che utilizzano funzioni di reconcile quindi riconciliazione dei dati inoltre nella fase finale potete vedere delle funzioni di check-in e check-out pensate perché all'interno del comune di Bologna vi sono delle licenze ArcView più ArcView che ArchInfo e ArcEditor quindi questo tipo di struttura ci consente di utilizzare le licenze base di ArcView per poter editare il locale sui dati e poi effettuare delle funzioni utilizzare delle funzioni di check-in e check-out per riportare tutto verso il geodatabase poi ci sarebbero altre cose da dire non c'è tempo buonasera diciamo che questa parte del allora diciamo che a fianco al geodatabase centrale quindi di fatto con ArcG Server 10 con Oracle 10 c'è un CMS CMS MOCA che è in comproprietà della regione Milano-Rovagna con Semenda la ditta con cui abbiamo fatto questo lavoro che permette di configurare gli utenti consente inoltre quindi abbiamo individuato utenti amministratori utenti in consultazione utenti gestori che poi sono utenti di editing e questo CMS GIS ci consente inoltre di catalogare tutte quante le mappe quindi map service data frame insomma tutti gli elementi cartografici ed inoltre attraverso il catalogo MOCA riusciamo a configurare direttamente le applicazioni di pubblicazione le applicazioni di pubblicazione che sono di due tipi una pubblicazione standard a cui vi ho dato il nome di BookViewer e una pubblicazione invece evoluta MOCA-POOC che praticamente va a mostrare in internet o no adesso dovremmo considerare cosa fare non il database centrale quindi non il database di default ma il database di cui parlava la collega di pubblicazione con il BookViewer che è un database filtrato filtrato attraverso dei metadati già presenti nella banca dati mentre la MOCA-POOC ci permette di interrocare quindi di consultare la cartografia diciamo storica quindi la storicizzazione del database centrale attraverso un sistema sarà possibile andare direttamente su diciamo delle immagini del database di default vediamo subito il BookViewer che è un'applicazione in tecnologia ArcGIS API for Flex adesso vi faccio vedere un breve video innanzitutto come abbiamo detto entrambi i due sistemi di pubblicazione vengono configurati attraverso MOCA ad esempio quello che stiamo vedendo è semplicemente un menu che viene gestito attraverso dei gruppi catalogati in MOCA qui si può passare da uno strumento all'altro e poi all'interno dei vari strumenti nelle tavole che li compongono ci sono gli strumenti di zoom sono i tipici strumenti di zoom finestra poi qui c'è la possibilità di selezionare da un livello di scale di cache per cui i map service sono organizzati c'è lo slide bar e quindi c'è anche qui la possibilità di passare da una scala all'altra e lo zoom su tutto che poi sono degli strumenti che conosciamo tutti inoltre c'è una bella funzionalità che ArcGISR mette a disposizione cioè c'è una una leggenda selettiva cliccando su un simbolo in mappa viene visualizzato ciò che corrisponde al simbolo la ricerca per indirizzi che va ovviamente sul database del sit e quindi fa una ricerca su decifici aggiornati giornalmente poi ci sono le tipiche ricerche per quartieri situazioni ed ambiti che sono particolari elementi del PSC quindi nello strumento urbanistico del comune poi per particelle catastrale e per le coordinate GPS un'altra funzione è la funzione di switch con le ortofoto queste sono ortofoto della Blom e della CGR e quindi c'è la possibilità di metterle in trasparenza su tutte quante le tavole dei tre strumenti oltre c'è la funzione di download c'è la possibilità di scaricare il pacchetto della tavola che stiamo vedendo in quattro sistemi di riferimento e in due formati shapefile ed xf poi c'è la possibilità di switchare da una tavola all'altra e da uno strumento all'altro rimanendo in quadrino sulla stessa posizione fare l'info e nell'info vengono date tutte quante le informazioni che ovviamente vengono reperite dal geodatabase e poi c'è la possibilità di fare l'accesso alla normativa la possibilità di scaricare il pdf della versione approvata dello strumento perché in internet abbiamo deciso invece di dare lo strumento in aggiornamento quindi se c'è ad esempio un vincolo sovordinato che è valido anche se lo strumento non viene variato e quindi non c'è una nuova approvazione del PSC facciamo vedere effettivamente ciò che è vigente e ciò che è valido sul territorio la funzione invece che viene visualizzata adesso è la funzione di info specializzato cioè permette di fare l'estrazione della disciplina urbanistica in pratica viene selezionato un punto intercettata dalla particella catastale c'è un carotaggio su tutte quante le informazioni presenti nel database quindi vengono restituite degli estratti di mappa di tutte quante le tavole dei tre strumenti con tutti quanti i collegamenti alla normativa ed infine c'è la possibilità anche di fare un collegamento a una ricerca di pratiche edilizie e la possibilità di stampare l'estratto in formato PDF questa è quindi il book view e la pubblicazione standard c'è la possibilità di fare anche una pubblicazione evoluta con una moca web che viene fatta in una tecnologia argi server java edf e questa praticamente va a interrogare appunto la versione storica cioè se inseriamo una data viene visualizzata la struttura cioè lo strumento urbanistico quindi psc rule il poc vigente a quella data con il collegamento alla normativa vigente nella data in cui facciamo l'interrogazione quindi per concludere diciamo che il sistema che abbiamo ottenuto è aperto è flessibile è configurabile quindi se dobbiamo fare delle modifiche ad esempio non dobbiamo modificare il codice ma basta semplicemente fare delle modifiche nelle tabelle memorizzate nel geodatabase diciamo che è essenziale perché la struttura è molto lineare molto semplice però è comunque completo è un lavoro non ancora concluso e quindi ci sono delle evolutive che vorremmo mettere in campo un potenziamento delle funzioni di gestione ad esempio vogliamo sviluppare degli strumenti sviluppare comunque configurare degli strumenti che consentono di aggiornare in automatico i pacchetti ad esempio di download quindi da caricare per permettere lo scarico oppure degli strumenti che aiutino chi deve editare il piano ad inserire dei nuovi oggetti poi un'altra un'altra attività che dovrà essere messa in campo è la creazione di un modello per la gestione dei piani attuativi e quindi per completare i tre strumenti con appunto i PUA concluso perfetto grazie grazie per la la velocità con cui ci hai fornito questa massa enorme di informazioni anche la qualità della presentazione è molto molto bella complimenti io ho apprezzato lo sforzo che avete sottolineato sul giro database certe volte si trascura un po' troppo infatti magari uno strumento già visto in altri comuni comunque anche il sit aveva già uno strumento simile però dietro non c'è uno chef file ma c'è un giro database con una certa struttura ci sono domande chiarimenti bene grazie c'è una domanda ah sì ecco arriva il microfono grazie grazie a parte i complimenti che mi associo per la presentazione mi chiedevo più volte ho sentito citato le particelle cadastali il cadastro io non la sento prima mi sono associato ai complimenti per la presentazione secondo mi chiedevo come avete risolto il problema dell'integrazione tra dati cadastrali e dati gli altri dati allora abbiamo ancora un tavolo un po' aperto perché in pratica stiamo chiedendo magari io non uso dei termini tecnicissimi perché non sono un informatico delle viste in arcazie oppure delle viste sdo per permettere di importare dentro direttamente il database le informazioni cadastrali i file cxf i file cxf del cadastro quelli che il cadastro di diverse comuni nel nostro database ci sono già delle feature class in cui abbiamo importato i dati cadastrali per il momento a noi servono soltanto il cadastro fogli mappale e poi non avete avuto problemi di integrazione tra il dato cadastrale e gli altri dati cartografici topografici o insomma georeferenziati di altra sorgente no? va bene positivo il fatto l'argomento è molto interessante c'è qualcuno che vuole dare il suo contributo dal suo punto di vista? qui ecco io collegandomi anche a questa domanda avrei voluto chiedere in quale sistema di riferimento è georiferito il tutto e come passate da uno agli altri ho visto quattro sistemi di riferimento allora il database in UTMRR gli altri sistemi di riferimento per il momento i pacchetti li abbiamo generati manualmente utilizzando il convert della Genemiglia Romagna e poi con dei model builder abbiamo velocizzato un po' il processo nelle evolutive chiederemo di sviluppare una procedura che ci consenta di avere in automatico i pacchetti da caricare perché altrimenti ogni volta che facciamo la pubblicazione del Geo Database dobbiamo per tutte le feature class rinominare i campi e fare le varie conversioni se posso aggiungere una cosa riferita a quella dell'integrazione banche dati effettivamente abbiamo dei sistemi che si collegano al nostro Geo Database vedi ACI l'anagrafe comunale degli immobili vedi i nostri riferimenti territoriali e la nostra cartografia tecnica che è su Oracle ma in un altro sistema quindi sì un pochino di problemi ci sono però abbiamo al momento richiesto delle viste vediamo in un futuro che cosa sarà inoltre aggiungo un'altra cosa il sistema ha previsto una creazione di web service quindi comunque diciamo noi con questo Geo Database possiamo ritornare ad altri strumenti ACI insomma gli altri gestori le informazioni e anche eventualmente delle viste cartografiche non so se è stato sufficiente bene sì ci sarebbe a fare un bel discorso sui servizi di trasformazione Inspire sui dati ma insomma vengono a affrontarlo se no non diamo spazio agli altri grazie se non ci sono altre domande io passerei ah no c'è una domanda lì in realtà avete fatto due relazioni non una salve Ruffilli volevo chiedere riguardo alla tecnologia ho visto che avete utilizzato la tecnologia Flex che è molto valida vi volevo chiedere riguardo al ciclo di vita del prodotto perché purtroppo come sapete la Flex era marchiata Adobe rilasciata alla 4.6 è stata ceduta ad Apache Incubating release da poco la 4.8 Pair ma c'è molto di atriba su su sviluppatore enterprise perché non si sa dove si andrà a finire siccome voi avete investito in questa tecnologia vi volevo chiedere la vostra opinione anche per il ciclo di vita del prodotto che durrebbe essere di almeno 4-5 anni grazie allora sì effettivamente è un dubbio che c'è sempre sì ci siamo posti allora il bando è stato fatto due anni fa quindi comunque due anni fa non c'erano poi tutti questi problemi sull'addobe e tutto il resto e poi comunque ripeto la parte di pubblicazione è soltanto una parte del sistema quindi eventualmente possiamo o internalmente oppure in altro modo sviluppare delle altre applicazioni in javascript qualsiasi tipo di linguaggio che comunque vanno direttamente su large server a pescare i dati che comunque sono strutturati e restano comunque interrogabili quindi comunque sì la parte di pubblicazione è una parte importante perché è quella che poi dà fuori il dato però la cosa importante di questo sistema è che dietro non ci sono shepiali ma c'è una bancarata di strutturato e comunque organizzata in maniera diciamo completa sì io mi trovo d'accordo se la base data è fatta bene vi permetti di cambiare il software tenendo conto anche di questi problemi comunque ovviamente però deve essere fatto come il cielo comanda cioè separando i dati dalle funzioni come sicuramente avete fatto qualcun altro? anche perché comunque ancora non si sa in che direzione si andrà verso il microfono per favore eccolo silverlight volevo sapere a che livello di aggiornamento siete dei dati cioè una volta applicato il sistema completato il sistema e agganciate i vari database cioè che livello avete di aggiornamento sui vincoli sulle variazioni catastali che era poi mi ricollego alla domanda che ha fatto il presidente questo sistema in che termini è attuale per chi lo consulta? al momento non siamo ancora fuori però in realtà lo siamo siamo nascosti abbiamo inserito soltanto i dati dell'approvazione dei tre strumenti perché di fatto sì ci sono state delle modifiche interne però non le abbiamo ancora recepite l'idea è poi di appunto con quella struttura del database che abbiamo creato della possibilità di dare anche in versione Archview l'aggiornamento di una parte soltanto ad esempio del PSC a qualche ufficio e quello l'idea è di spacchettare il PSC in vari database oppure insomma in varie versioni e poi di assegnarlo al responsabile del dato quindi non so il settore ambiente avrà da aggiornare non so i vincoli sull'elettromagnetismo o cose del genere in modo tale che di individuare appunto i responsabili di tutti quanti dati di riuscire a raccogliere i dati più aggiornati possibili qualcun altro direi di no mi sembra non vedo bene chiamiamo Pili e grazie ecco Pili ci presenta una relazione su indicatori multiscalari per lo studio delle componenti della città quindi siamo nel campo della pianificazione urbanistica in senso stretto direi anche se affrontando in modo con degli aspetti innovativi prego grazie questo è l'inizio di un percorso di ricerca che si sta svolgendo insieme alla dottoranda Stefania Sini si è partiti dal concetto di forma urbana nel senso più ampio del termine nel quale si considera non solo la forma fisica della città ma le dipendenze che ci sono tra le caratteristiche anche della popolazione e delle socio-economiche della città con la forma fisica poi si è partiti analizzando i dati territoriali che attualmente sono disponibili presso gli open data regionali la domanda che ci si è posti è se fosse possibile definire un approccio in qualche modo standardizzato per definire dei nuovi parametri sulle relazioni tra i caratteri fisici e i caratteri socio-economici della città ci si è dati per iniziare in questo percorso un obiettivo perché gli obiettivi possono essere tanti e possono essere relativi a differenti componenti della città ma in questo caso ci siamo focalizzati sulle relazioni che legano il livello di qualità del patrimonio edificato nel senso degli edifici e il profilo della popolazione residente e in un altro gruppo di indicatori sarà relativo al mercato immobiliare cioè al prezzo e all'apprezzamento del mercato immobiliare e alla domanda di spostamento sotto potete vedere un elenco degli indicatori utilizzati alcuni di questi sono relativi a un riferimento scalare direttamente che deriva dall'articolazione istat altri invece utilizzando i dati presenti nel geodatabase sono relativi ai civici e l'attività svolta all'interno dei civici essenzialmente altri ancora sono relativi all'edificio altri ancora alle zone di mercato omogeneo ricavabili dai database della camera di commercio che in qualche modo sono coincidenti con i quartieri storici della città si è deciso tra questi vari dati che erano noti a livelli scalari differenti si è deciso di scegliere come unità per l'analisi la sezione censuaria in quanto nella città di Cagliari che abbiamo utilizzato per provare questa metodologia la sezione censuaria generalmente corrisponde con l'isolato della città quindi è un'unità abbastanza di dettaglio perché può contenere un numero variabile di edifici che può essere da una decina ma massimo una ventina questo è più o meno l'ordine di grandezza di edifici presenti e in più ci dà la possibilità di relazionarci molto facilmente con i dati ISTAT che saranno disponibili presto nel nuovo censimento che in realtà non siamo riusciti ad avere per questa analisi da parte dell'amministrazione comunale quindi il problema era quello di relazionare un dato di dettaglio maggiore come quello dei numeri civici a livello della sezione censuaria in particolare per quanto riguarda dei dati relativi all'accessibilità si è cercato di valutare l'accessibilità in termini di possibilità e fruizione dei servizi con il numero di attività quindi dei civici presenti all'interno di una data a distanza da ogni edificio quindi calcolato il numero come potete vedere qua a destra avendo strutturato un semplice algoritmo di geoprocessing per calcolare questi dati calcolando il numero di attività raggiungibili entro a seconda del tipo di attività raggio era diverso entro un dato raggio di attività di un edificio e poi facendone la media per sezione censuaria siamo riusciti a ottenere un dato a livello di sezione censuaria l'aggregazione spaziale a più alto livello potrà essere sempre eseguita con questo con questo tipo di di approccio questi dati divisi in vari gruppi di indicatori come abbiamo come abbiamo fatto vedere in precedenza sono stati analizzati tramite un'analisi della correlazione dopo essere stati standardizzati nella loro variabilità i dati sono stati messi in correlazione tra loro potete vedere che alcuni dati tra di loro alcuni gruppi di dati mostrano delle correlazioni maggiori adesso non entro nel dettaglio dei vari elementi delle correlazioni perché i gruppi di indicatori sono molti e non possiamo stare qui a vederli tutti però mostriamo una mappa riassuntiva che può essere questa che vedete sulla destra allora qui si vede la città di Cagliari il centro storico è quello è quello che vedete nel colore più scuro cioè che è relativo agli edifici realizzati in tempi più antichi precedentemente al 1919 poi abbiamo le espansioni in arancione fino agli anni 50 quindi diciamo la prima espansione del centro urbano e poi l'espansione più recente che parte dagli anni 50 fino agli ultimi in realtà la città di Cagliari diciamo che ferma la sua espansione intorno agli anni 90 perché ormai gli spazi per costruire sono veramente pochi e residuali si è mostrata una forte correlazione tra l'età degli edifici e il profilo della popolazione residente essenzialmente nelle aree degli anni 50 e nelle aree più recenti si può dire che la popolazione che risiede è ancora fortemente caratterizzata da quella che è stata la prima insediata nel luogo mentre nel centro storico vi è una sostituzione una specializzazione del tipo di popolazione che vi è residente nel centro storico abbiamo prevalentemente una popolazione di età inferiore di profilo lavorativo e single questo anche è stata mostrata dalle relazioni dei coefficienti di correlazione è molto legato alla dimensione media delle abitazioni gli elementi puntuali che potete vedere sono la distribuzione dell'attività di tipo artigianale dell'attività dei servizi pubblici dell'attività di tipo commerciale in questo caso potete vedere come nel centro storico e nelle zone diciamo intorno agli anni 50 edificate intorno entro la fine degli anni 50 si localizzino la maggior parte delle attività pubbliche e di commercio mentre le attività naturalmente le attività industriali che non sono neanche segnate stanno all'esterno del centro urbano essenzialmente che quindi non sono state considerate in questo momento nella correlazione questo che cosa ci ha portato a dire che comunque le scelte di piano storico che si sono effettuate negli anni 50 e anche precedentemente hanno dato una forte impronta alla città che ancora è sensibile nelle popolazioni che sono insediate questo è un importante elemento per poter decidere e inghilzare la pianificazione futura naturalmente la ricerca continuerà con la definizione di un set più largo di variabili con delle analisi geostatistiche soprattutto per valutare la relazione con le vie di maggiore percorrenza con maggiori flussi di traffico e si cercherà e si svilupperà l'analisi aggregata anche a livello comunale in modo da poter confrontare con lo stesso set di indicatori e di variabili standardizzate anche diverse municipalità e quindi avere un panorama più 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 completo anche a livello provinciale o regionale io avrei determinato benissimo grazie grazie ci sono domande io avrei una domanda insomma se tra gli strumenti di analisi geostatistiche avete usato la correlazione spaziale le serie storiche queste cose qui c'è un forte effetto di autocorrelazione dei fenomeni sul territorio che a volte può falsare i numeri come noto allora lo strumento in questa slide sono state presentate i risultati di una correlazione prettamente statistica non spaziale perché abbiamo perché la correlazione spaziale degli strumenti lavora per layer può lavorare per layer separati in prima analisi utilizzando gli strumenti presenti nel GIS quindi noi prendiamo una variabile e la valutiamo nella sua distribuzione spaziale in questo momento a noi interessava soprattutto valutare la relazione tra diversi tipi di variabili standardizzati in campi diversi questo non vieta soprattutto per le dinamiche di spostamento sicuramente che implementeremo dei modelli di tipo geostatistico perfetto grazie domande allora grazie e passiamo a Cerri collega Cerri ci parla di un'applicazione per l'unione dei comuni del Rubicone quindi siamo non troppo distanti dunque buon pomeriggio a tutti e in questa brevissima sintesi vi illustrerò un sistema quantitativo a supporto delle decisioni per la pianificazione territoriale e vi presenterò nello specifico il caso studio applicato al territorio dell'unione dei comuni del Rubicone il progetto è stato sviluppato da dei consulenti esterni in stretta sinergia con l'ufficio tecnico con l'ufficio unico di piano dell'unione comuni del Rubicone appunto allora il lavoro prende le mosse dall'attuazione della legge regionale 22.000 che disciplina la tutela e l'uso del territorio e articola la pianificazione alla scala locale su tre livelli come abbiamo visto nell'intervento precedente PSC POC e RUE il lavoro che abbiamo organizzato si innesta sulla definizione del primo strumento quello generale di programmazione del territorio e di definizione delle scelte strategiche di assetto dello stesso e più precisamente il disposto normativo del 2000 della regione Emilia Romagna dà come indicazione sostanziale la definizione all'interno del piano strutturale di una solida base conoscitiva dello stato di fatto e come elemento diciamo di innovazione assoluta la valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale del piano e il lavoro che noi abbiamo condotto nel caso di studio che presentiamo in estrema sintesi si riferisce all'analisi del sistema della mobilità in particolare sia la definizione dell'analisi dello stato di fatto sia la definizione della val sat preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale si sono articolate per analisi di sistema ambientale economico sociale sistema insediativo e territoriale e sistema rurale in sostanza l'ambito territoriale in cui il progetto si assesta è un ambito territoriale che riguarda tre comuni Gatteo San Mauro Pascoli e Savignano Sturbicone che si sono associati in unione e hanno trasferito le funzioni urbanistiche ed edilizie ad un ufficio unico di piano che si sta preoccupando di elaborare il piano strutturale comunale e RUE per i tre comuni del Rubicone appunto allora entrando nel vivo del lavoro condotto in questo ambito territoriale per l'attuazione del disposto normativo della 22.000 si è preso come punto di partenza la definizione di una banca dati territoriale che è stata organizzata e articolata in collaborazione con la regione Emilia Romagna e con la provincia di Follicesena nel senso che attraverso un accordo territoriale sono state definite le linee guida per la costruzione di una banca dati territoriale che potesse essere condivisa alle diverse scale di pianificazione quindi quella locale quella provinciale e quella regionale la costruzione della banca dati territoriale si è occupata si è preoccupata dell'analisi del sistema della mobilità predisponendo un rilievo fisico delle infrastrutture viarie del territorio e quindi sono stati imputati nella banca dati territoriale dati quantitativi quindi proprio sezioni delle strade e caratteristiche geometriche delle stesse ma anche dati qualitativi quindi lo stato di manutenzione delle strade attraverso questi dati quali quantitativi è stato sviluppato un modello di simulazione dei flussi di traffico veicolare che ci ha portato a definire anche quegli indicatori utili alla definizione della valutazione preventiva del piano come il livello di congestione degli assi viari che deriva dai flussi presenti sulla rete infrastrutturale del territorio la capacità residua del sistema viario e i tempi di percorrenza tra i centri capoluoghi del comune il modello che è stato utilizzato per la simulazione dei flussi di traffico veicolare è stato sviluppato all'interno di un applicativo che prende il nome di Traffic Planner che è stato sviluppato da un consulente esterno che ha lavorato in sinergia appunto con l'ufficio unico di piano ed è un modello simulativo che viene utilizzato ad oggi alla nostra scala territoriale a più livelli di pianificazione quindi viene utilizzato sia dalla provincia che nel caso specifico dall'unione appunto dei comuni dei rubiconi nella predisposizione del loro piano strutturale intercomunale in sostanza questo modello si basa sul modello classico di domanda e offerta attraverso la nostra banca dati territoriale abbiamo definito l'offerta di mobilità che il nostro territorio mette a disposizione quindi sostanzialmente le reti infrastrutturali e attraverso le sezioni di censimento Istat abbiamo anche organizzato la domanda di mobilità del territorio per spostamenti sistematici casa lavoro attraverso degli studi condotti in ambito regionale abbiamo derivato per completezza anche il traffico merci del territorio e il sistema è stato implementato alla scala locale per organizzare i flussi tenendo conto della distribuzione della popolazione sul territorio i dati ovviamente come dicevo prima sono stati raccolti in una banca dati territoriali in un GIS e questo tipo di modellizzazione ci consente l'applicazione anche a casi studio di grande dettaglio noi per la definizione del piano strutturale comunale abbiamo voluto verificare su un'area specifica del territorio in esame se le previsioni dei piani previgenti a livello di sistema della mobilità potevano essere riconfermate così come presenti negli attuali piani oppure era forse il caso di rimetterle in discussione il sistema quantitativo è proprio un sistema a supporto delle decisioni politiche da inserire nello strumento generale di programmazione appunto del territorio quindi per organizzare questo studio specifico su una parte del territorio che ha una grandissima rilevanza perché si colloca tra degli importanti assi di collegamento viario che sono l'A14 sulla quale è stato realizzato da qualche settimana un nuovo casello e questo ambito si colloca anche sulla direttrice di collegamento principale Ovest-Est che è appunto la via Emilia in sostanza attraverso gli indicatori che sono stati selezionati per la valutazione preventiva di sostenibilità attraverso la comparazione con progetti simili a quello che andavamo a definire e attraverso degli studi condotti nell'ambito del piano dei trasporti della regione Emilia Romagna sono stati ricavati una serie di indicatori che inseriti all'interno di questo modello simulativo ci hanno consentito di ricavare degli scenari di traffico relativi allo stato di fatto e al probabile stato futuro indotto dall'attuazione di comparti che sono appunto insistenti su questo territorio che dal punto di vista infrastrutturale è molto complesso questo è l'esito che è derivato dalla simulazione dei flussi di traffico veicolare quelli che si vedono rappresentati sono proprio i flussi di traffico veicolare merci rappresentati come media oraria dei veicoli equivalenti transitanti nell'arco temporale biorario e questo è lo scenario probabile di futuro derivato dall'attuazione dei comparti che erano prima stati illustrati nelle slide precedenti e questo approccio di tipo appunto qualiquantitativo configurandosi appunto come preventivo viene direttamente correlato con il momento decisionale della programmazione delle politiche territoriali quindi molto utile agli amministratori per la definizione di eventuali variazioni a quelli che erano gli approcci sostanzialmente classici e per promuovere questo questo tipo di approccio qualiquantitativo questa sorta di modellizzazione l'Ufficio Unico di Piano sta predisponendo sta pensando di predisporre un portale WebGIS che verrà dedicato alla consultazione delle informazioni che in questo modo vengono appunto raccolte e simulate io ho finito io direi che possiamo apprezzare il fatto di aver utilizzato strumenti quantitativi tutt'altro e banali su un'area piccola a volte c'è il fantasma concettuale gli strumenti raffinati si usano solo su grandi zone magari ancora da popolare e così via comprimetti una cosa molto interessante ci sono delle domande mi sembra non vedo nessuno quindi possiamo passare siamo perfettamente in orario quindi passiamo grazie possiamo passare a Nicolosi Nicolosi ci presenta un'applicazione della geomatica nei contesti investigativo e giudiziario che certamente è un tema non non usuale in questo contesto ma io ho letto la relazione estremamente interessante prego grazie signore e signori buonasera sono Paolo Nicolosi del collegio dei geometri e geometri laureati della provincia di Catania io e il collega Domenico Mazzaglia abbiamo voluto dare un nostro piccolo contributo a questa conferenza sita un contributo su un tema possibilmente avulso da tutti quelli che abbiamo sentito fino ad oggi quello della geomatica legata ai contesti investigativo e giudiziari mi potrete dire cosa c'entra vedrete che in realtà c'entra siamo partiti da un lavoro pratico un'attività professionale svolta nel 97 è nata come da una necessità da un incarico da parte del magistrato scusate datemi la mano qua grazie dicevo da un'attività da un incarico professionale scaturendo l'esigenza che aveva la magistratura di capire se le affermazioni che c'è ho scombinato un poco tutto diciamo prima che combino altri guai dicevo la necessità che aveva la magistratura di sapere se le dichiarazioni di un pentito fossero veritiere attendibili e l'unico modo era accertarli sui luoghi quindi da un così funziona sì come potete leggere dal mandato il mandato era abbastanza ampio era quello di dimostrare individuare capire quali fossero i luoghi se veramente le distanze da un nascondiglio dall'uno dall'altro i percorsi se erano veramente carrabili se potevano essere fatti a piedi ecco tutta una serie di informazioni utili a capire se le dichiarazioni fossero veritere o meno il contributo che oggi noi vogliamo dare esula in realtà dai risultati ottenuti da un punto di vista giuridico la cosa che abbiamo voluto testimoniare è proprio l'importanza della geomatica in un contesto magari distante da quello strettamente tecnico quello giudiziario e soprattutto quali evoluzioni ci sono state nell'arco di 15 anni perché il lavoro è stato fatto nel 97 oggi come l'avremmo affrontato quali risultati avremmo avuto sono uguali i migliori i peggiori le precisioni i tempi di esecuzione bene quasi per scommessa abbiamo voluto rivedere tutto il lavoro fatto sotto un'altra veste il contesto territoriale in cui si svolgono le indagini è quello del versante sud dell'Etna una zona alquanto devo dire urbanizzata però anche ricca di possibili nascondigli di fabbricati rurali nascosti dalla vegetazione quindi diciamo dei luoghi anche accidentati in base alle dichiarazioni del pendito e delle deposizioni rese ai carabinieri quindi da questo verbale siamo riusciti a individuare i vari luoghi e a posizionarli a misurarli a vedere le mutue distanze tra di loro e questo è un particolare quindi siamo riusciti a misurare le distanze fra un nascondiglio e l'altro e i nodi di interscambio dei vari percorsi come dicevo a distanza di 15 anni abbiamo voluto rivedere tutto il lavoro fatto dicendo noi ora a disposizione cosa abbiamo abbiamo Google e con uno strumento gratuito faccio una premessa le misurazioni fatte 15 anni prima 15 anni fa sono state fatte in maniera grafica su una cartografia dell'87 sulla carta tecnica regionale quindi abbiamo visto vediamo con i nuovi elementi con i nuovi strumenti che abbiamo a disposizione quale differenze otteniamo e abbiamo visto abbiamo misurato con sistemi informatici evidentemente le distanze che avevamo preso prima graficamente sulla carta i risultati sono quelle che vedete ma confrontandoli abbiamo visto che c'è anche un certo scarto tra quelle rilevate attualmente e quelle di prima abbiamo voluto controllarle con un rilievo diretto sui luoghi con GPS ci siamo resi conto che le ultime informazioni assunte da Google sono più vicine molto più vicine a quelle reali quindi ciò ha dimostrato che i nuovi strumenti tecnologici ci permettono di essere più veloci e anche più precisi o ulteriore e non trascurabile particolare era la ricerca dei nascondigli all'interno dei ricoveri dalle deposizioni si emergeva delle circostanze che alcuni locali erano stati nascosti con delle murature posticce quindi e allora si è reso necessario capire se queste murature fossero veramente se le dichiarazioni fossero veritiere e questo è stato fatto con l'utilizzo di muratori di maestranze e quindi con un intervento invasivo e distruttivo dei locali oggi con le nuove tecniche basterebbe utilizzare una termocamera per essere sicuramente più veloci meno invasivi meno distruttivi ed l'intervento economicamente più economico a questo punto le considerazioni tratte sono quelle che senza dubbio il processo tecnologico contribuisce alla velocizzazione e ottimizzazione dei risultati contribuisce sicuramente all'ottenimento dei risultati più vicini alla realtà e sicuramente con un costo e un dispendio di energie inferiori però l'analisi fatta è un'analisi che non si deve sottovalutare per ottenere questi risultati c'è l'uomo dietro non ci dobbiamo scordare che qualsiasi mezzo qualsiasi strumento offerto alla nuova tecnologia deve essere adoperato dall'uomo e deve essere adoperato da tecnici preparati formati vorrei dire che con enorme soddisfazione il collegio dei geometri di Catania tende alla formazione dei nostri iscritti e ciò deriva anche dalle indicazioni ben precise che ci dà il consiglio nazionale a tutti i collegi grazie 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 molto stimolante questa presentazione ci sono domande chiarimenti passiamo allora sulla stessa linea di applicazione della geomatica alla amministrazione della giustizia chiamiamo sortino che parlerà dell'utilizzo degli strumenti della geomatica per la realocazione delle sedi dei giudici di pace un'applicazione quindi rivolta al fattore organizzazione della pubblica amministrazione buonasera a tutti mi chiamo Giuseppe Sortino sono un dipendente del ministero della giustizia ho realizzato questo studio in collaborazione con l'ingegnere Dardanelli e il dottor Ferrara del dipartimento di ingegneria civile ambientale e aerospaziale dell'università di Palermo l'argomento della revisione delle circoscrizioni giudiziarie è un argomento molto attuale e ha visto impegnati politici e tecnici e proprio a settembre del 2012 è stato emanato il decreto legislativo 156 che di fatto riduce gli 846 uffici di giudice di pace distribuiti in tutto il territorio a soli 179 nella maggior parte coincidenti con le sedi circondariali di tribunale ecco chiaramente una ottimizzazione andava fatta dal 91 è chiaro che una riduzione di circa l'80% rischia di inclinare quella che era la figura del giudice onorario che era stata voluta dal legislatore nel 91 cioè quel giudice di prossimità che andava a materializzare la vicinanza della giustizia ai cittadini e allora in questo studio noi abbiamo condiviso la maggior parte dei punti dello studio governativo abbiamo però voluto focalizzare una prospettiva un po' diversa cioè lo studio governativo ha unicamente valutato due obiettivi risparmio della spesa e incremento dell'efficienza noi abbiamo pensato che questi due obiettivi sicuramente importanti risultano secondari rispetto all'obiettivo dell'efficacia del servizio reso e della parità di trattamento di tutti i cittadini cioè efficacia del servizio reso cioè devo vedere la qualità del servizio che è reso e devo dare a tutti i cittadini la stessa possibilità di accesso alla giustizia andiamo a vedere come abbiamo fatto allora in questo studio innanzitutto abbiamo analizzato le sedi di giudici di pace dei distretti di corte d'appello di Palermo e Caltanissetta ringrazio il ministero della giustizia che mi ha fornito i dati nella direzione generale di statistica e anche l'ufficio dei sistemi informativi automatizzati a Palermo lo studio è diviso in due fasi la prima fase è stata una ricerca di una metodologia oggettiva per individuare quali sedi di giudici di pace sono più idonee in termini di efficienza efficace per offrire il servizio della giustizia in poche parole chi ha operato meglio nella seconda fase individuate quali sedi devono rimanere aperte è stata fatta un'attenta analisi spaziale per aggregare i nuovi territori e allora andiamo a valutare la prima fase allora questa ricerca di metodologia oggettiva abbiamo realizzato una scheda di valutazione per assegnare a ogni sede di giudice di pace un punteggio in base a alcune variabili la maggior parte delle variabili sono state condivise anche nella legge 148 che è la legge delega che ha assegnato appunto la delega al governo a questa revisione e appunto sono stati valutati il numero di abitanti di competenza di ogni ufficio l'estensione del territorio da servire l'indice di litigiosità della popolazione nell'ambito e l'indice di produttività ecco l'indice di produttività è una particolarità di questo studio è stato creato appositamente e consente di premiare quelle sedi di giudici di pace che nel periodo analizzato hanno evidenziato una capacità di smaltimento uguale o maggiore al valore soia devo a questo punto spiegare cos'è il valore soia il ministero della giustizia ha fatto uno studio devo dire anche abbastanza particolarizzato dagli anni del 2005 al 2009 sul numero di procedimenti esauriti in ogni ufficio di giudici di pace è fatta una media nazionale ha visto che ogni giudice in media riesce a smaltire un numero di 568 procedimenti l'anno quindi ha fissato questo valore come soia e ha detto quegli uffici che hanno un numero di iscrizioni inferiori a 568 non giustificano la presenza di un giudice noi invece appunto realizzata questa scheda abbiamo poi ottenuto il punteggio dalla somma delle variabili standardizzate e pesate e ha consentito di stilare una gradatoria che è stata presa a riferimento nella scelta dei giudici di pace da mantenere nella seconda fase invece era appunto l'individuazione di quale territorio di competenza ogni nuova sede dei giudici di pace doveva essere predisposto l'elemento determinante che ha caratterizzato questo studio è stato il vincolo della distanza massima che ogni cittadino deve percorrere per raggiungere la sede del giudice di pace di competenza cioè volevamo dare quello che dicevamo all'inizio parità di accesso alla giustizia in questo studio in particolare è stato fissato una distanza massima di 50 chilometri cioè un cittadino a una distanza che si trova in qualsiasi comune a una distanza massima di 50 chilometri deve trovare una sede di giudice di pace e allora vediamo un po' come abbiamo fatto quest'analisi ho preso per esempio qui il circondario di termini perché è quello che come estensione ci dà l'idea in maniera più chiara e allora siamo partiti dalla sede di circondariale qui termini perché lo stesso schema di decreto stabilisce che quelle sedi non vanno chiuse partendo da quella sede con un network analyst e una funzione di service area abbiamo stabilito un buffer di 50 chilometri che è questa zona in grigio che sono proprio 50 chilometri di percorrenza e con una query spaziale sono andato a individuare quali comuni rientravano all'interno del buffer e vediamo qui che solo quelli verdi mentre quelli rossi non rientravano quindi erano a una distanza maggiore di 50 chilometri in questo caso nel caso in cui appunto tutti i comuni del circondario non risultano serviti dalla sede è stata effettuata una nuova valutazione di service area aggiungendo la sede del circondario che nella scheda di valutazione aveva ottenuto il più alto punteggio quindi in particolare per termini abbiamo aggiunto la sede di Cefalù abbiamo fatto l'analisi ma abbiamo visto che rimanevano ancora dei comuni fuori quindi è stata aggiunta la sede di Corleone e la sede di Polizzi solo in questo caso aggiungendo quattro sedi si è fatta di nuovo la valutazione con l'analisi spaziale e tutti i comuni rientravano all'interno dei 50 chilometri di percorrenza a questo punto era indispensabile individuare i territori di competenza di ogni sede e questo ci è venuto in aiuto il cost matrix cioè l'analisi delle distanze cioè fatti fissi punti delle sedi abbiamo calcolato tutte le distanze da quella sede a tutti i comuni del circondario qui per semplicità si vedono delle linee rette che è solamente una rappresentazione grafica ma sono proprio percorrenze stradali a questo punto l'aggregazione è chiaramente stata fatta per la distanza più piccola e questo è stato il risultato della nuova aggregazione alla fine è stata fatta un'ulteriore analisi cioè questi nuovi territori queste nuove aggregazioni rispettano comunque il valore soglia fissato dallo studio governativo ed è stato fatto anche questa analisi perché queste nuove aggregazioni chiaramente come ipotesi di nuove iscrizioni vanno addirittura a superare quello che è il valore soglia stabilito dalla legge quindi in conclusione possiamo dire che lo studio così strutturato ci ha consentito di analizzare delle situazioni del territorio effettivamente molto complesse poi spicca termini dove in particolare lo studio governativo aveva lasciato una sola sede e andando a compromettere la parità di trattamento in ben 21 comuni in questo caso poi la metodologia ha dimostrato che mantenendo in vita quattro sedi piuttosto che una sola è possibile effettuare una revisione della geografia giudiziaria e un risetto territoriale delle competenze nel rispetto sia dei vincoli imposti da questo studio sia del valore soglia nazionale stabilito dallo studio governativo e quindi dai risultati ottenuti si può affermare che lo studio così strutturato consente comunque una riduzione significativa degli uffici pari al 74% contro l'83 però nel contempo si riesce a garantire la parità di accesso alla giustizia a tutti i cittadini vi ringrazio per l'attenzione grazie per la chiarezza di esposizione di questa metodologia molto interessante ci sono domande? prego di giù intanto ma effetto pratico di questa di questa metodologia? l'effetto pratico poi chiaramente le scelte politiche non sono mai sempre quelle più pratiche ecco la mia domanda era proprio questa poi il ministero sulla base di questo suo studio ha approvato questa redistribuzione delle sedi o non ne ha tenuto conto? il ministero mi ha anticipato perché praticamente la revisione delle circoscrizioni è stata fatta con decisione politica e quindi poi non ha preso in analisi questo studio grazie mi ha dato la risposta così è l'Italia insomma però non voglio nulla all'importanza è stato violato un principio costituzionale quello dell'articolo 24 che dice che tutti i cittadini hanno il diritto di accedere alla giustizia e quindi questa è un'ennesima violazione anche nella diciamo redistribuzione pur doverosa pur necessaria della violazione di un diritto costituzionale ecco come la geomatica praticamente è di ausilio diciamo all'applicazione pratica del diritto grazie grazie a voi altre domande? ecco qui più che una domanda una curiosità avete scelto come soglie i 50 km sì mi chiedevo avete pensato anche a criteri che tenessero conto dei tempi cioè algoritmi di minima distanza in termini di tempo ecco queste erano le due possibilità che avevamo o la distanza chilomerica o la distanza in tempi di percorrenza però i tempi di percorrenza poi in base alla tipologia stradale mi andava a variare troppo e creavo delle differenze chi si trovava in zone servite da autostrade o a strade di scorrimento rispetto ad altre che non lo avevano quindi ci siamo fermati a una distanza di 50 km perché comunque le sedi di giudici di pace erano state istituite nelle sedi del mandamento cioè andiamo indietro nel tempo quindi sicuramente una revisione andava fatta 50 km noi abbiamo valutato anche 40 e 60 50 ci è sembrata quella che oggi come oggi con gli strumenti con anche le tecnologie sia una media che riesce a dare un risparmio di spesa che era poi l'obiettivo principale dello studio molto chiaro ci sono altre domande bene allora se non perfettamente in orario proprio al minuto spaccato vi ringrazio chiudo la sessione e domani ovviamente continuo la conferenza e in ogni caso arrivederci al prossimo anno grazie a tutti grazie a tutti